Mi è uscito, caro Guido, una foto da Telecolor, dottor Porcellini, approccio multidisciplinare. C'è uno con i capelli sparati, no scusi, i riccioli, con capelli da artista. Chissà se è lo stesso, mi sembra strano. No, 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 quello lì è il dottor Sodani, Pietro Sodani, allievo i carelli di mio padre alla divisione di hematologia. E' stato, è un grande, lui è un... Ma dicevo, il papà è ancora in attività? È ancora in attività il papà? No, no, no. Da quanti anni? No, ormai ha dieci anni che è fuori dall'ematologia mondiale applicata, però ho potuto lavorare un posto nel privato. Quanti anni ha? L'ematologia è una branca dove puoi fare i pedali, poi la libera professione è poca roba, per cui una volta che sei, dopo i 70 anni sei costretto a uscire da giro, perché per l'ematologia non puoi esercitare, diventa difficile andare avanti. Mio padre è uno scienziato puro. Senta, mi viene in mente, dottore, la storia dei lucarelli. Io per stampa seria, non su vanizzagnoli.it, dove ovviamente sono senza freni, e dovrei stare al manicomio invece, aspetti, pensi che, lo dico volentieri, un anno, siccome sono semi disoccupato, quindi mal di pancia, un po' immaginare, no dottore, un anno e mezzo fa mi volevano trattenere quasi con la forza al pronto soccorso di Reggio Emilia, dove mi hanno ingannato, no? Nel senso, arriva, arriva il medico, no, ma adesso arriva la psicoterapeuta. Beh, insomma, non è stato... Ho detto, guardi, che alle 15 devo andare a dormire. Io vado per un controllo alle 11, e no per un controllo, insomma, vado perché sto peggio del solito. Beh, insomma, alle 11, ancora, alle 11 del giorno dopo, ancora non stavo dormendo. Avevo da scrivere la serie B per il messaggero.it. Non è stato facile, anche dopo mi inseguivano quasi... Insomma, volevano tutti con... Io stavo aspettando un bravo omeopata, fortunatamente adesso sto meglio. Intanto, ormai sto per finire lo spazio, e invece guido, faccio diverso, devo fare diverso, e la chiamo dall'altro numero, perché qua è un telefonino di riserva e ho finito lo spazio. Intanto, dove sta andando, dottore? A casa? Sto tornando a casa, abbiamo fatto le visite a Resana di Treviso, al centro Rebellato, e finite questa e si torna a casa dai bambini.